Grazie per la sua presenza, sempre così molto carina, molto fattiva, ed è Elisabetta Delle Zuleotto. Grazie Elisabetta, piacere di essere qui. Buonasera Laura e buonasera a tutti. Stiamo lavorando sul tema delle proprietà dei cristalli legati ai segni zodiacali, astrologici. E questo mese, che mese è questo mese? Questo mese siamo sotto il segno del leone, che è un segno che va dal 23 luglio al 23 agosto ed è il quinto segno dello zodiaco. È un segno di fuoco retto dal sole e per quanto riguarda l'organismo controlla la schiena, la colonna vertebrale, il cuore e la circolazione sanguigna. Allora, qual è la particolarità di questo segno? Non solo che qui abbiamo la nostra Laura che è nata sotto questo segno e anche la trasmissione con Tiferet è eretta dal pianeta del sole. Esattamente, sì. Ma che cosa ci rimanda il sole? Ci rimanda a vedere addirittura nella mitologia egizia che era il dio del sole, veniva rappresentato da un leone sulla cui testa appoggiava proprio il sole e a cospetto del dio del sole c'era la dea della guerra e della medicina rappresentata da una leonessa. Questa nasce così già dall'Egitto, questa simbologia legata a questo segno particolare. Ma il sole, che è appunto, come dicevamo, il pianeta reggente del leone, è anche il centro del nostro sistema solare. Da questo provengono vita, calore, energia, che è costantemente presente nelle nostre esistenze. E sotto questo cielo, proprio in questo periodo, è importante potenziare le qualità connesse alla capacità di dare e ricevere in modo equilibrato, illuminando se stessi e gli altri, cercando però di non bruciare se stessi e gli altri, con l'energia più vera del sole. Ma quali sono le gemme più appropriate a questo segno? Allora, la pietra preziosa, vincolata al leone, è il topazio. Però al leone, retto dal sole, corrispondono tutte le gemme dotate di una grande brillantezza e luminosità, pure quelle che presentano tonalità più gialle, aranciate o rosse. La più indicata, come dicevamo, è il topazio come pietra preziosa. E la pietra del sole, che all'interno contiene lo stesso nome. Perché queste pietre rafforzano emozioni e sentimenti, consentendo di raggiungere delle mete prefissate, procurandoci anche l'ammirazione degli altri. Altre gemme indicate potrebbero essere l'occhio di tigre e il quarzo citrino. Ma vediamo in dettaglio le due pietre che vi ho enunciato. Allora, la prima è il topazio, che è una pietra preziosa. Di che colore ha? Allora, ha più colorazioni il topazio, però quella di cui volevo parlarvi è quella che ha il colore più giallo e c'è addirittura una varietà di pietra topazio, gialla, un giallo quasi oro, che viene chiamato topazio imperiale. Si ritiene che il termine sia di derivazione greca e che indichi una delle antiche isole del Mar Rosso. C'era un'isola che si chiamava Topazios. L'isola era famosa proprio per l'abbondanza di queste pietre, sebbene non fossero tutti topazzi, devo dire la verità. Un'altra ipotesi accreditata è che il termine derivi dalla parola greca topazio, che potrebbe derivare a sua volta dallo sanscrito, che vuol dire fuoco. Ma vediamo che cos'è il topazio e soprattutto il topazio di tipo imperiale. Allora, ovviamente è la pietra più ricercata ed è considerato il suo colore come quello del sole al tramonto. Il topazio imperiale è abbastanza costosa come pietra e prende il nome proprio dagli zar russi del XVII secolo. Questo perché? Perché gli zar rivendicavano i diritti esclusivi sulle gemme che venivano estratte in Russia. E c'erano delle bellissime pietre che sembravano quelle del sole al tramonto. Oggi il topazio imperiale viene estratto principalmente in Brasile, lo dico, anche se ci sono ancora dei giacimenti sui monti Urali in Russia. Ok, quindi Brasile e Russia. Sì, adesso attualmente sì. Vediamo, è molto particolare, il suo tono varia da trasparente al traslucido e presenta un'elevata chiarezza con poche inclusioni. Quindi le gemme possono essere esaminate, perché sono veramente trasparenti, ad occhio nudo e si possono addirittura trovare prive di imperfezioni. Anche se a volte delle inclusioni potrebbero dare un gioco di luminescenze particolari. Allora, nella Bibbia addirittura il topazio imperiale viene descritto come uno dei dodici cristalli che adornavano il piatto del sommo secerdote. E molti, soprattutto gli antichi egizi, pensavano che il topazio imperiale fosse colorato col raggio di luce dorato del potente dio Horus. Ecco perché il topazio imperiale viene considerato da sempre un amoleto potente come protezione contro qualsiasi tipo di magia. E anche dominato dal sole, quindi propiziatorio di vittorie, di successo in ogni campo, materiale, spirituale, emozionale, mentale. Ed è una delle pietre della verità, perché è legato alla capacità di perdonare e alla verità. È un simbolo di felicità e amicizia. Questa pietra aiuta chi la possiede a trovare il proprio scopo nella vita ed avere una maggior consapevolezza di sé e dei propri valori. È una pietra che aiuta a lasciare dietro le tensioni, favorendo un senso di pace, di gioia, di rilassamento. È in grado di equilibrare le emozioni. Aiuta soprattutto coloro che passano facilmente da uno stato emotivo all'altro senza trovare un vero equilibrio. Ecco, questa è una pietra che può aiutare. Poi aiuta soprattutto in fase di guarigione, perché attenua lo stress psichico, dà coraggio e voglia di migliorare la propria vita. Favorisce la meditazione, favorisce la concentrazione, perché è considerato uno strumento in grado di allungare la vita e donare concentrazione, acume e intelligenza. Ma perché allungare la vita? Perché si pensa che il sole, come il sole, sia inesauribile. Quindi allunga la vita. È un amuleto contro le negatività. Già dal tempo degli egizi, come dicevamo, ma anche dei romani, perché associavano il topazio, soprattutto quello col colore imperiale, al potere benefico del sole. I greci pensavano addirittura che la pietra potesse avvicinare l'uomo a Dio. Wow! Perciò per assorbirne i poteri benefici, basterà indossarne un ciondolo o una collana di topazio da tenere a contatto con la pelle. Se invece si vuole affinare la concentrazione, potremmo tenere una pietra sulla scravania nel tavolo da studio o da lavoro. Ok. Ecco, questa è una pietra particolare perché è associata soprattutto al terzo chakra, che è il nostro plesso solare, in base anche al colore. E favorisce una lucidità mentale, una concentrazione, rafforza non solo autostima, ma anche il modo con cui noi arriviamo e ci proponiamo agli altri. E' utile quando si devono combattere delle dipendenze, soprattutto per persone che si sentono sopraffatte dallo stress quotidiano. E' una pietra solare questa. E' disintossecante dal punto di vista fisico, soprattutto per il fegato e per il pancreas. Ed è ideale per coloro che hanno glicemia alta o che sono diabetici. E' una pietra della manifestazione che attiva e potenzia la volontà personale, attivando e risvegliando la nostra volontà. E' anche, come dicevo prima, considerata una delle pietre della longevità perché incarna l'energia del sole. Questa pietra, per quanto concerne le proprietà metafisiche, possiamo affermare che aiuta chi la indossa a trovare il proprio scopo nella vita ed essere più consapevole dei propri pensieri, delle proprie azioni, dei propri sentimenti. E' sintonizza molto bene il corpo astrale e con la mente, facilitando anche il ricevimento di messaggi sottili. Come possiamo pulire e ricaricare questa pietra? Per purificare questa pietra dobbiamo immergerla in acqua non calcarea per diverse ore e ricaricarla esponendole ai raggi della luce. E cosa vuol dire acqua non calcarea? Cioè, dobbiamo vedere che non contenga calcare. E' tipo quella dell'acquedotto però è calcarea? Forse sarebbe meglio utilizzare dell'acqua mineralizzata, però possiamo utilizzare come sempre, io dico sempre che quando non siamo, noi possiamo diventare creativi con la nostra pietra. E a parte piccoli accorgimenti, quindi non esporre la pietra a fonti di luce, perché il suo colore potrebbe sbiadire, la possiamo posizionare ad esempio sopra una bella drusa diametista. La ricarichiamo. E' possibile ricaricarla sotto i raggi della luna? Quindi laviamola velocemente nell'acqua per paura che ci sia calcare e poi ricarichiamola in quella maniera. Possiamo caricarli anche con i raggi del sole, ma senza esporla mai in modo diretto e solo nelle ore meno calde, perché tende a sbiadire il topazio e perde la sua bellezza. Comunque, devo dire la verità, che se vedete un cambiamento vuol dire che non ha subito trattamenti, perché essendo una pietra molto, possiamo dire, molto ricercata, vengono fatte spesso imitazioni. Quindi si prende magari il quarzo citrino e lo si, se il commerciante non è un commerciante di fiducia, potrebbe cercare di portare un po' acqua su un vino, perché il quarzo citrino costa meno del topazio. Ecco, potrebbe, quindi se sbiadisce, in ogni caso un buon segno. Ok. Il prezzo. Nei ciolielli vengono utilizzati vari tipi di topazio, perché il topazio ha vari colori. Ovviamente vengono fatti anelli, orecchini, ciondoli. Il topazio giallo, e non parlo proprio di quello imperiale, è una gemma costosa, però non tantissimo come quello imperiale, che va verso il rosso-marrone. Ok. Ed è altrettanto efficace in termini di benefici salutari. Anche perché il topazio giallo occupa un posto speciale proprio in astrologia, sotto il cielo dell'Eone. E è noto per, viene utilizzato soprattutto perché si pensa che rimandi a un colore giallo del sole. Purtroppo i commercianti senza scrupoli, come vi dicevo, hanno coniato, utilizzato molti nomi falsi per il quarzo citrino, che ha un colore diverso. E' sempre una pietra che va benissimo durante il segno del leone, il quarzo citrino. Perché, tra parentesi, è una delle pietre che attira l'abbondanza e la prosperità. Quindi questo però è il quarzo citrino. Il quarzo citrino, ma tutte le pietre che hanno a che fare con il giallo, richiamano abbondanza e prosperità. Qual è la differenza tra il topazio giallo e il topazio imperiale, che è più prezioso? E' proprio il colore. Perché il topazio imperiale è un giallo scuro, quasi arangione. Ed è per questo che assomiglia meno al quarzo citrino. Ok. Poi ci sono, ci sono onestamente anche un tipo di topazio che ha un colore blu, che è una varietà più comune usata in gioielleria. E il suo prezzo, quello blu, si aggira attorno ai 20 euro a carato. Questo, quello blu. E quello blu. Invece quello, diciamo, quello giallo. Mettiamola così. Non l'hai voluto nominare, non l'hai voluto dire. Allora, il topazio giallo costa attorno ai 70 euro per carato. Mettiamo, in questo caso, cioè, se vogliamo cercare. Ci sono dei ciondo in argento con topazio giallo naturale. Se il topazio è piccolino, lo troviamo anche attorno 40-50 euro. Ad esempio, un anello in oro con un topazio, con un topazio anche giallo, può venire sopra i 250 euro, però è quello giallo. Con l'oro. Con l'oro. Sui 60-70 euro, se c'è l'argento. Ok. Consideriamo che quello, bellissimo, con la tonalità arancione, topazio imperiale, raggiunge prezzi superiori ai 1000 euro per carato. Cioè, è veramente costosissimo. Il topazio più prezioso è addirittura quello che ha il colore rosa o rosso e può raggiungere i 3500 a carato. Caspita. E sono generalmente pietre, raramente disponibili, per forme superiore ai 5 carati. Ok, quindi sono normalmente piccolini anche, non c'è una grande, non se ne trova di grandi. Infatti è bellissimo, e come dicevo, veniva rivendicato dagli zanni che hanno dato loro il nome, lo hanno chiamato topazio imperiale. E proprio per non scoraggiarvi, avevo pensato di parlarvi della pietra del sole, che per me è una pietra bellissima, che ha proprio delle valenze incredibili e porta il nome proprio del pianeta che governa il segno del leone. Il suo colore è marrone rossastro, oppure rosso bruno o marrone dorato. Un po' rosato anche, perché sto guardando delle immagini, ma non so se possono essere veritiere, quelle che riesco a vedere. Insomma, magari li vedo male io. E vedo, sì, effettivamente è un rossato, un po' rosso marrone, un po' rosso. Stavo cercando quello imperiale? No, pietra del sole. La pietra del sole per me è bellissima. Ha questo colore, poi te la mostro. E come sempre arrivo con il sacchettino. Ah sì, col sacchettino, infatti a fine trasmissione sono curiosa di vederli dal vivo, li tocco. Ha un nome particolare dentro il suo nome cinese che è Shang Xin Yan, che vuol dire roccia che si trova nella montagna. Il termine Xin significa fede, perché c'è stato un grande dibattito tra taoisti, buddhisti e confucianisti sulla possibilità di trovare l'illuminazione attraverso la pietra. E questa pietra rappresentava proprio questo dibattito, di trovare particolarmente riguardante come coltivare la fede. E questa veniva racchiusa all'interno della pietra del sole. In passato questa pietra veniva montata in oro per conferire al mago che la utilizzava le energie solari. Wow. Quindi l'oro, sai che è legato un po'. Il sole. Comunque è una pietra dell'ottimismo che rende soddisfatti di ciò che si è. E allontana depressione e predisposizione a pensieri pessimisti. Infonde fiducia nel destino e in se stessi. Aiuta nel riuscire a non disperdere le forze necessarie per raggiungere i propri obiettivi. È utile per lavorare su problemi di paura in generale come paura del fallimento, paura del successo, paura dell'ignoto. Ed è ottima da usare anche in occasione di nuove iniziative o attività lavorative come ad esempio l'apertura di un negozio oppure qualsiasi altra attività si voglia intraprendere. È connessa anche questa al plesso solare perché aiuta ad eliminare blocchi emozionali. Questa è una pietra yang, di energia yang, che riscalda, protegge e rafforza il corpo fisico. Come nel segno precedente, se vi ricordate, durante il periodo del cancro avevamo la pietra di luna, che era una pietra femminile e aveva un'energia yin. Adesso è arrivato il sole che rappresenta il padre e quindi ha un'energia yang, che è quella che illumina e porta un'energia che proviene da una fonte universale. È una pietra che stimola l'autoguarigione e migliora anche la comunicazione tra i vari organi, cioè può praticamente aiutare a comunicare tra loro i vari organi. Ha un'azione ricostituente sull'organismo soprattutto debilitato dopo una malattia o dopo un lungo periodo di stress e di pessimismo. È una pietra che combatte, come dicevo, la depressione anche nei mesi invernali. Sai quando è un po' più buio, quando la luce... ecco, e combatte la malinconia. La pietra previene, prendetela col bene, previene, quindi non è che... previene l'infarto e gli incubi. Ma perché previene l'infarto? Perché è una pietra che porta positività. Quindi la positività tende a non farci ammalare. Armonizza il secondo e il terzo chakra, collegata ovviamente al sole e al fuoco. Si può portare come ciondolo, come bracciale, si può collocare anche nella casa per proteggere ed è indicata anche per i bambini. È una pietra che aiuta sicuramente nell'attraversare tempi difficili, soprattutto se sentiamo rimorso per delle azioni che abbiamo commesso o se siamo convalescenti dopo un'operazione. Perché è una pietra che afferma la fede che c'è sempre nella speranza e che è possibile ricevere sempre la grazia dall'altro e che possiamo sempre espiare i nostri peccati. Ecco, è una pietra che ci aiuta in questo. Aiuta, come dicevano, nelle depressioni e nelle sfere emotive infonde ottimismo. Armonizza il sistema nervoso e vegetativo. Quindi stabilisce la comunicazione cuori e reni. Quindi, per la bassa autostima, per persone con debolezza alle gambe o che hanno difficoltà a superare i blocchi, depressione dopo una convorescenza, pressione del sangue bassa, incapacità ad impegnarsi in un dialogo significativo con se stesso. Ecco, aiuta moltissimo. Aiuta anche nelle irregolarità mestruali e nei sintomi della menopausa. Ma come possiamo utilizzarla? Si può mettere la pietra del sole nell'acqua della vasca per supportare la comunicazione cuori e reni. Si può portarla in tasca e un sacchetto di fibre naturali o appesa al collo. Montata su collane, bracciali o ciondoli. Non è però, lo dico, consigliabile dormirci sopra perché conferisce molta vitalità e potrebbe impedire il rilassamento necessario proprio per addormentarsi. Quindi non mettiamola né sotto il cuscino. Per quello ci sono altre pietre che possono favorire, tipo il diaspro giallo o altro sempre giallo, ma non sicuramente nella pietra del sole. Contiene alluminio e solitamente rame. Quindi usare delle precauzioni se si vuole utilizzarla come elisir. L'elisir vuol dire messa nell'acqua. Ecco, ricordatevi che contiene sia alluminio che del rame. Perciò mandateci cauti mettendola nell'acqua per berla. Scusa, ti interrompo perché qui un signore sta dando informazioni false sulla salute. No, non è per la salute queste cose che abbiamo dato assolutamente. È un modo per sentirsi molte volte sereni. Allora, il discorso della salute. Io ovviamente non sono un medico. Io dico che secondo la medicina, e parlo di medicina tradizionale cinese, queste pietre aiutano soprattutto i medici che utilizzano anche i punti dell'agopuntura. Adesso io ovviamente in trasmissione non posso fare tutta una cosa così lunga. Ma questi non sono, e lo ripetiamo, non sono consigli medici di nessun tipo. Assolutamente. Non sono consigli medici. Tra l'altro, scusa, volevi finire perché poi c'è anche una domanda e quindi volevo anche poi rispondere perché abbiamo circa quattro minuti. Allora, questa pietra, se grezza, non ama l'acqua, ma può sopportare qualche minuto sotto un filo di acqua corrente e non spesso. Poi va asciugata correttamente, avendo cura di eliminare l'umidità assorbita, mettendola qualche minuto al sole o sopra un calorifero. Se è levicata, se invece è burattata, può essere messa in acqua per breve tempo. In alternativa, ovviamente, interventi con reiki o a riposo su una drusa di ametista o di cristallo di rocca. Bani di sole, questa può essere anche la luce diretta del sole o della luna che ne rigenerano la vitalità. Quando la pietra del sole avrà ceduto tutto il suo potenziale energetico di cui dispone, diverrà fragile e si romperà. Addirittura? Sì, come altre pietre e a questo punto è opportuno riconsegnarla alla natura, liberandola, in questo caso in mare o in un corso d'acqua. Ah, ecco. Infatti l'avevamo già vista questa cosa, non mi ricordo per... Quali altre pietre, perché alcune le dai anche alla terra. Sì, infatti. Mi ricordo che alcune avevi detto che potevamo mettere tipo la luce del sole, altre no, infatti. La maggior parte perché sbiadiscono, ad esempio, il topazio alla luce diretta del sole. Caspita, c'è il topazio imperiale e non si può metterlo a portarlo al sole? No, tende a sbiadire e ti mostra che è un pietre. Non c'è tanta artificialmente. Cioè, praticamente bisogna utilizzarla solo di notte. E comunque per il signore che diceva... Era usata, diciamo, nei vari lapidali, che era appalto di medici antichi e di imperatori e quant'altro, era usata per gli esorcismi. E' una pietra che veniva usata per gli esorcismi. Come... Il discorso credo che molti vogliono sapere quanto costa e come si fa a capire se la pietra è vera o falsa. In commercio esiste un'imitazione di pietra del sole costituita da vetro marrone combinato a polvere di rame. In realtà si tratta appunto di un trattamento chimico che per quanto esteticamente bella non possiede assolutamente le caratteristiche della pietra. Perché la pietra vera è più fredda, più pesante, non si degrada, ha delle imperfezioni, ha delle venature, è lucida e presenta cristalli di quarzo o calcite nella sua struttura. Il costo è tutt'altro rispetto al... Infatti sto guardando e c'è anche un braccialettino qui di perle grandi di pietra del sole e adesso dimmi tu però non costa tantissimo. No, costano abbastanza poco. Il bracciale adesso... Io ho visto quei 22 euro mi hanno detto. Ci possono essere dei ciondoli in argento eccetera con delle pietre del sole con i ganci sui 25 euro anche i ciondoli. Bracciali anche belli. Sì, vedo anche qui delle perle molto grandi. Attorno arrivi anche a 45-50 euro. Però sono delle cifre accettabili. E lo stesso, quelle bulattate, dei pendenti o la pietra stessa non montata tra i 10 e 15 euro. Sì, vabbè, si trova facilmente. Allora, qui abbiamo Giulia da Padova che scrive Gentilissimi, mi sono collegata solo poco fa ma volevo farvi i complimenti per la bellezza di questo intervento. Tutto tuo Elisabetta. Ho una domanda. Io sono attratta tantissimo da pietre di colore rosso aranciato. Possego infatti un anello con ambra e una collana con pietra del sole. Ha un significato questo richiamo che c'è in me? Grazie mille, Giulia da Padova. Hai un minuto perché poi abbiamo la pubblicità. Allora, io, prima di tutto, queste pietre, come vedi, sono collegate al primo e al secondo chakra. Quindi radicamento e creatività. Sono delle pietre bellissime e sono collegate, come dicevo, le pietre di questo colore sono legate al segno del leone che non ha importanza se tu non lo sei assolutamente di questo segno. Perché lavoriamo, l'universo è un meraviglioso insieme organico dotato di una vita complessa ma ordinata. E tutte le specie viventi inanimate, tutte le energie, sia conosciute che sconosciute, interagiscono in un unico processo dinamico. Quindi prendi sempre le pietre che ti attirano. Sicuramente stanno facendo un lavoro per te e con te. Guarda, io sono sempre quella che dice quando andate... Perfetto. Toccate le pietre e prendetele. Grazie Elisabetta. Tiferetta Radio Gamma 5, 8 agosto 2022. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in Via Antoniana Santasei e a Campo d'Arsego. Allora, qui ho trattenuto Elisabetta perché è arrivato un messaggio da Giulia da Padova la quale scrive, discurbo solo per un'ultima richiesta, per caso la signora tiene dei corsi, stiamo parlando di con Elisabetta delle Ziliotto che ci ha appena fatto una bellissima esposizione da questo otto pazzo, otto pazzo imperiale e la pietra del sole perché era legato al segno zodiacale. Però appunto Giulia chiede, per caso la signora tiene dei corsi nei quali insegna le sue conoscenze sulle pietre oppure può consigliare qualche libro? Grazie ancora. E lei è Giulia da Padova. Tutta tua risposta. Allora, buonasera Giulia. Io non tengo dei corsi esattamente sulla cristalloterapia, però io ogni mese, proprio secondo il segno, secondo il periodo, tengo delle sedute corali di costellazioni familiari con carte sciamaniche e cristalli proprio del periodo che hanno una importanza veramente interessante per quanto riguarda proprio le costellazioni familiari. Eventualmente, magari Laura può passarmi, caso mai, il contatto. E se in questo momento Giulia da Padova è in linea, ci sta ascoltando, mi mandi un messaggio se posso prendere il numero di telefono. Perché eventualmente io ho scritto e ho fatto delle carte, ho realizzato delle carte, 64 carte, con un libro di 260 pagine dove ci sono anche i cristalli. Cioè ogni carta, oltre a avere delle simbologie particolari, è legata anche alla parte oracolare dei Qing e per ogni carta c'è un cristallo. Viene spiegato anche la particolarità del cristallo all'interno di questo libro e c'è una piccola meditazione che correla il tutto. Si chiama il soffio dei maestri. Bellissimo qua. Ecco, lo potete trovare. Il giardino dei libri, ecco. Sì, eccolo. Tra l'altro me l'ha regalato e a me piace tantissimo perché anche quando mi sento così, dico ma mi alzo con dei pensieri, vediamo che tipo di messaggio mi arriva. Allora lo pesco e pesco la carta e appunto lì c'è la meditazione associata, c'è la pietra, guardo anche la figura che tu hai creato. Le figure e soprattutto in alto c'è la pietra, per ogni carta c'è una pietra. Ecco, l'immagine, la creatività porta che potete utilizzare la carta come se aveste la vera pietra, anche nella meditazione. Ha la stessa valenza in qualche maniera perché poi è l'intenzione quella che conta. E viene utilizzata perché alcune pietre, ovvio noi non ne abbiamo tutte, e queste pietre possono aiutare. C'è anche la spiegazione della pietra che viene rappresentata. Grazie, allora Giulia Dapazos che va benissimo, grazie. Allora io ti passo il numero quindi di Giulia, per cui se per caso e poi vi sentite insomma. Ecco, allora benissimo, grazie, grazie Davide Poeta Pazzo. Io ti libero, ti libero di nuovo, io ti ringrazio dei saluti perché ti avevo un attimo trattenuto, visto che insomma mi sembrava carino rispondere a Giulia, visto che eri ancora qui, buon rientro, ci sentiamo più tardi noi insomma. Grazie, grazie Laura e ancora buona serata a tutti.